I miei gol sono serviti anche per l'ospedale Buzzi di Milano e questo mi rende molto felice. Questa è una partita che non voglio perdere, quella della solidarietà. Nel mondo sempre avrà gente che necessita aiuto. La Fondazione Milan esiste per questo. La mia grinta è servita anche per aiutare i bambini di Calcutta. Vogliamo che questo impegno non si fermi. Aiutaci anche tu. Sostieni Fondazione Milan con il tuo 5x1000. Grazie a tutti.